Buone stelle, da Radio.Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. L'oroscopo Una buona giornata a tutti e ben ritrovati anche in questo venerdì 12 febbraio nel nostro appuntamento con le stelle di Radio.Zero. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, la riuscita non sempre è una conseguenza dell'azione, a volte se vi fermate ad annusare l'aria arrivano intuizioni illuminanti e risolutive. Le iniziative nel lavoro acquisteranno in questo periodo solidità e concretezza, per ora siete in fase di transizione. Toro Con l'appoggio di transiti promettenti da oggi la luna in pesci chiude la settimana all'insegna della serenità familiare e delle coccole. Mollate chi dà troppa considerazione all'immagine esteriore, scegliete invece chi valorizza la ricchezza interiore. Gemelli L'umore non sarà al top oggi, ma non trascurate le relazioni sociali, anche se probabilmente apprezzerete la tranquillità di un momento di solitudine. Chiedete e conferme del vostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti vi mostrate sfuggenti ed evasivi. Cancro Giornata ottima quella di oggi, capeggiata dalla luna in pesci che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. In arrivo eventi prodigiosi ai quali non pensavate nemmeno. Se avete un partner innamorato sorvolate su alcune discordanze, altrimenti vi toccherà mettere in conto alcune discussioni. Leone Vergine Vergine Bilancia L'agitazione che regna nell'ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Non spaventatevi di fronte all'impegno che nuove responsabilità comportano. La fortuna, ricordate, premia gli audaci. Scorpione La luna preannuncia un recupero della sicurezza in voi stessi. Potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici. L'avventura, si sa, è pericolosa, ma la tranquillità per voi è letale. Potendo scegliere, opterete per il rischio. Sagittario Difficile, ma non impossibile. Oggi mantenere la rotta basterà a prendere le cose con calma e non demoralizzarsi di fronte a eventuali contrattempi. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Capricorno La luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all'esterno, proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato di voi. Buona anche l'intesa di coppia, vivacizzata dalla giusta dose di passione, sentimento e un po' di gelosia. Acquario Le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora così soddisfacenti. Chiedetevi quindi cosa manca, la risposta non è difficile. Dopo un periodo di conoscenza è ora di creare un patrimonio spirituale comune in coppia. Sogni, ideali e valori saranno in prima linea. Pesci Urano sostiene senza sé e senza ma la vostra luna. Il risultato è un equilibrio a prova di bomba. Senza perdere la dolcezza acquisterete sicurezza. I sogni possono diventare realtà. Un amore romantico si avvia verso una progettazione concreta. E' tutto per il nostro oroscopo di questo venerdì. Vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio Punto Zero La miglior radio del Friuli Venezia Giulia Radio Punto Zero Radio Punto Zero Radio Punto Zero